cari amici dell'opera di roma amanti del teatro della buona musica sono francesca dotto e mi vedete così sorridente perché sono felicissima di dirvi che la traviata super glamour con la regia di sofia coppola e i costumi di valentino che è nata proprio con me nel 2016 al teatro dell'opera di roma approderà anche da noi qui in italia in televisione dopo aver fatto letteralmente il giro del mondo la potrete vedere quindi giovedì 21 su rai 5 in prima visione assoluta in prima serata altrimenti se doveste perdervela non preoccupatevi perché da venerdì 22 la potrete rivedere tutte le volte che vorrete grazie alla collaborazione tra il teatro dell'opera di roma e rayplay andando proprio sulle loro due piattaforme e quindi cliccando rayplay.it oppure accedendo al canale youtube del teatro e da parte mia cosa posso aggiungere che vi suggerisco di guardarla di seguirla di appassionarvi a violetta e vi abbraccio tutti fortissimo anche se solo virtualmente e vi do appuntamento quanto prima a teatro ciao a e non perdetevela è